ciao ragazzi ben ritrovati faccio questo piccolo video per fare innanzitutto gli auguri di ferragosto come sapete sul sito c'è attiva una promozione con il sapone molle in omaggio per una spesa di 100 euro però attenzione visto l'enorme successo di quest'anno che è stato veramente all'anno dei record veramente esagerato e visto il fatto che sto ricevendo anche un sacco di richieste ho deciso solo per questo mese quindi da adesso fino a fine agosto di aggiungere quindi di concedervi un'ulteriore offerta quella già esistente quindi oltre a sapone molle in omaggio avete anche la possibilità di aggiungere il codice cb 10 per avere uno sconto del 10 per cento ok buon ferragosto tutti fate acquisti acquistate quello che volete sul sito non ci sono limiti usate l'offerta cb 10 per avere lo sconto del 10 per cento su tutto ok ciao a tutti e grazie mille buon ferragosto